Simona Ventura e Giovanni Terzi. Un matrimonio memorabile e doni speciali per gli invitati Simona Ventura e Giovanni Terzi hanno finalmente coronato il loro sogno d'amore con una cerimonia romantica davanti ad amici e parenti. Dopo il matrimonio, la coppia ha voluto rendere omaggio a tutti i presenti con dei doni molto speciali. Rossella Herra ha svelato questi dettagli durante un intervento a Estate in diretta, richiamando la sua esperienza con i due sposi a Ballando con le stelle. Omaggio agli invitati, Rossella Herra si definisce, l'angelo custode, di questa coppia speciale, essendo stata loro vicina a Ballando con le stelle e anche durante il matrimonio. La Herra ha condiviso alcuni dettagli sui regali che Ventura e Terzi hanno fatto agli invitati. Ha mostrato una borsetta che Simona Ventura ha fatto trovare a tutti, contenente vari gadget. Un ventaglio, il menu della cena, un sacchettino con il riso, una salvietta umidificata. Ucchiali, un segnaposto personalizzato a forma di microfono. I segnaposto erano abbinati ai tavoli, ciascuno con il nome di una trasmissione condotta da Simona Ventura. Rossella Herra era al tavolo di Ballando con le stelle. Dettagli sul lancio del bouquet. Un altro dettaglio interessante riguarda il lancio del bouquet. Rossella Herra ha raccontato di aver ripreso il momento, svelando che il bouquet non è stato preso subito da Valeria Marini. Infatti, a prenderlo per prima è stata la signora Francesca, seguita da Albertina che ha tentato di strapparlo. Infine, è intervenuta Valeria Marini, che lo ha diviso in due durante il tentativo di afferrarlo, causando la rottura delle sue unghie. Grazie.